Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Che fai? Mi faccio un goccio di tè. Dobbiamo andare veloce perché qui le batterie stanno finendo. Io bevo un caffettino invece e qui stiamo mangiando delle cose cioccolatose di diversa natura. Cioccolatose? Sì, e poi qui c'è un pacchettino, un pacchettino che dice da degustarsi immediatamente e quindi da degustarsi immediatamente lo mettiamo in fronte a Stefan. Ti assicuro, vabbè, così. E poi, Stefan, puoi aprire questa scatolina? No. No? Dai, aiutami! Finisce la batteria, finisce la videocamera, finisce tutto. Dai! Allora, qui dentro che cosa c'è? Qui dentro ci sono dei macaroni. Io amo questa scatolina perché questa scatolina poi quando è finita e ci siamo mangiati tutti i macaroni è utilissima per metterci trucchi minerali e quindi per me è veramente importante. Mi aiuti? C'è una protezione di plastica che Stefan, che è un artista, ecco fatto. E poi ci sono i macaroni. I macaroni sono questi dolcini francesi che sono molto molto fragili e sono fatti di pasta meringata, di lo stesso impasto che si usa per la meringa sotto e sopra, quasi lo stesso impasto. Poi i cuochi di macaroni, i pasticcelli di macaroni hanno i loro segreti e dentro c'è un ripieno morbido, un ripieno morbido virtualmente fattibile con ogni sorta di, in inglese si dice flavor, in italiano non lo so più come si dice. Gusto. Gusto, sì, con ogni sorta di gusto. E niente, e quindi stiamo facendo merenda con questo. Siccome questi macaroni se ne andranno via nel giro di una mezz'ora, se io facessi un video fra mezz'ora potrei farvi vedere quanto diventa vuoto. Allora, ecco, niente, volevo farci il video. Cioè, questo è interessantissimo perché è verde però anche rosa e c'è un ripieno di un rosa diverso. Questo è fantastico. Veramente. Beh, ce ne sono due di ognuno. Poi c'è questo giallo che è di un giallo bellissimo. No. Poi c'è questo. Che è successo? Un macchiolone. Una macchiolona? È una macchiolona. Stefano, sei felice di questa merendina? Sei felice del fatto che la videocamera sta durando e non si sta spegnendo come ha fatto negli ultimi dieci minuti, duemila volte? Non mi interessa. Stai bene oggi? Sì. Il tuo tè? Sì, ma io sto ancora dormendo, mi serve un caffè. Sì. Senti, ma il tuo tè a che gusto è? Il Darjeeling. Darjeeling. Allora, forse per svegliarmi andrebbe anche bene il Darjeeling. E niente, volevamo fare un video con dentro il maccaron, con dentro queste altre cosine. Che c'è dentro a queste altre cosine di cioccolata? Non lo so. Penso dentro queste mandorle? Non lo so.